Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Una svastica disegnata su un post-it murale con una frase pacifista. È accaduto in una voghera su una torretta della centralina elettrica di via Barbieri dove i gnoti hanno creato con una bomboletta spray di colore nero il simbolo della svastica sulla frase Armati di santa pazienza, violenza genera violenza, la violenza si vince con la non violenza. Ad accorgersi della presenza del simbolo ineggiante nazismo sono stati alcuni residenti che hanno immediatamente segnalato l'accaduto sui social network. Non è la prima volta che sui muri della città compaiono simboli nazisti alcuni dei quali, al contrario dei murales più strettamente artistici e satirici, non sono mai stati cancellati dagli addetti di ASM. Porta la tua azienda in questo video. Japtv è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.